siamo partiti e dopo un po di tempo cosa incontriamo un paesello in mezzo al nulla è meraviglioso è meraviglioso la c'è un altro la in fondo cioè qua veramente sei distante da un paese all'altro con in mezzo al verde e questa è la strada che mi aspetta meno male un po di discesa signori queste sono le strade ce la può fare chiunque ho visto farlo a gente veramente impressionante ho incontrato anche un uomo senza una gamba che lo faceva con le stampelle non ho osato riprenderlo perché non so non mi è venuto però devo dire che lo fanno persone incredibili incredibile chiunque può farlo è una questione di carattere è una questione che uno dice io lo faccio lo fanno tutti e tutte le persone che hanno carattere allora lo faccio anch'io perché anch'io ho carattere e solo questo ti porta avanti perché non vi posso spiegare quanto è faticoso percorrere queste strade cioè ovviamente sto spingendo cioè non pensate che sto pedalando con 42 chili di di poderosa mamma mia niente si prosegue eccola il classico segnale che puoi incontrare la freccia gialla che ti porta sulla strada giusta è mezz'ora che sto spingendo o anche di più su questa strada e quando finisce quando finisce mamma mia c'è incredibile la freccia parla chiaro dice di là è il pellegrino è il pellegrino pellegrino prosegue non ferma neanche la montagna siamo arrivati siamo arrivati fino a qua incredibile ma ce l'abbiamo fatta con la poderosa ce l'abbiamo fatta è stata dura è qua incontriamo un altro ciclista ciao un campione anche lui perché per arrivare fino qua di essere un campione vero è il mio amico da me dos campione a 3 pure io è il primo è il primo è il primo è il primo non vale però bene me puoi dire se si asì foto video no sta sì qui tiene assi ok no è sto no no quale assi ecco mi qua anch'io con la mia poderosa Sono arrivato fin qua, a Olmos, che è? Olnos, no? Questo paese, questo paese, è Olmos. Sono arrivato fino a Olmos. Bueno, ce l'abbiamo fatta. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. E non sono ancora a metà strada. Grazie. Grazie.